Nel resto d'Italia i negozi che chiudono sono quelli più del centro storico che quelli della periferia, mentre da noi resistono di più quelli del centro rispetto a quelli di periferia. In dieci anni Arezzo ha perso il 5,7% delle imprese commerciali, soprattutto nelle aree fuori dal centro storico. Le perdite più importanti riguardano negozi di moda, elettrodomestici e prodotti per la casa, crescono invece alimentari, farmacie, telefonia ed infine commercio ambulante. Questo quanto emerge dall'indagine della Confcommercio sulla rete distributiva e turistica della città dal 2008 al 2017. Perché il centro regge di più? Perché in centro ci vengono i turisti, la nostra città comincia a essere apprezzata, la politica anche europea di valorizzare i piccoli centri, le città storiche, sta cominciando ad avere i suoi frutti. Ma questo dato allarmante sulle chiusure dei negozi di vicinato, del commercio tradizionale, ci deve fare riflettere attentamente. Perché l'acquisto è anche un fatto politico. Se noi cominciamo a snobbare i negozi di vicinato, i nostri negozi, e cominciamo a comprare nei grossi non luoghi, nei centri commerciali, nelle città fantasma, nelle cosiddette città che scimmiottano le città, oppure online, abbiamo già fatto una scelta. Bar, ristoranti e strutture ricettive segnano invece un più 21% grazie alla spinta del turismo e del fuori casa. È l'accoglienza che cresce, l'accoglienza è fatta di ristoranti e di strutture recettive e il turismo quest'anno è andato molto bene in tutta Italia.